Ecco, siamo qui in Rue de Rivoli, proprio vicino all'Uvre, e siamo proprio qui su questo museo, che è il museo delle arti decorative. Ecco, questo è l'ingresso del museo. Siamo in Rue Rivoli 107. L'entrata, come scritto qui, avviene dai giardini, causa lavori. Quindi dovremmo andare verso i giardini. Vediamo che già cominciano i giardini della Tuilerie, e quindi l'ingresso da questa parte. E termina il Palazzo del Louvre, che vediamo qui sopra. Questa dovrebbe essere l'area Richelieu. Ecco, questa è la zona forse d'ingresso. Di fronte cominciano i giardini della Tuilerie. Qui si entra dentro l'ingresso del Louvre, l'ultimo ingresso. Siamo all'interno dell'area dei giardini, e vediamo poi il Louvre qui di fianco. Siamo arrivati quasi nella zona d'ingresso, dove c'è questa folla. Ecco, con queste immagini della folla, chiudiamo questo video. Grazie. 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 Grazie.